Pensi anche tu che il tuo tempo sia prezioso, unico, irripetibile. Vivi il tuo paesaggio interiore nell'emozione di una natura incontaminata. Cogli la luce che taglia l'orizzonte, la limpidezza cristallina che sfuma i contorni del tempo. Ascolta la pienezza del silenzio scandito al ritmo del tuo respiro. Scegli la provincia di Belluno, protagonista delle tue emozioni. Grazie.